Eh... Clarissa! Oh... Oh... Ooh... Clarissa! Ehi! Clarissa Matteo! Ehi! Oi! Hai mia bella Clarissa! Eh! Ehi! Hai capito! Quale giorno, mia bella Clarissa? Eh... Eh... Taxi Clayton chiedeva di Clarissa! Sexy Clayton Ciao Tari Welcome back Come andata? Gliel'ha buttata lì Gliel'ha buttata la piagna Domanda Michael scusami Benissimo Io l'ho già mangiato Grazie Il video finisce qui Ma se sei interessato alle news Puoi iscriverti al canale E attivare la campanella Per non perderti i nuovi video